Dopo la manita subita sette giorni prima al Calvi, la marianese cattolica 1923 scende in campo contro la terza forza della classe, trasferta proibitiva sulla carta. Ma i giallorossi oggi maglia giallobru sfiorano l'impresa giocando una partita ad alta intensità, subendo il pari nei soliti dannati minuti finali. L'inizio a favore degli ospiti. Melonghi appoggia per Mussa e cetocampista penetra in area di rigore, sbattendo contro la muraglia chiamata a Blundo. Dall'altra parte la Prulivorno non perdona, Casalini ha spazio davanti a sé, traversone per Bomber Rossi che di testa trova il suo dodicesimo centro in stagione. La reazione della marianese cattolica non tarda ad arrivare ma il colpo di testa di Nodari si spegne a lato. Ma il pareggio è rimandato di qualche minuto. Palazzi sgaloppa sulla fascia, si accentra, sul pallone arriva in un secondo momento Mannuzzi che scarica così. In fondo alla rete il pallone del pareggio, 1-1 e gran gol per il centrocampista cattolichino. Dall'altra parte Rossi prova a siglare la doppietta personale, Faccioli ci mette oltre il nome anche la faccia. La marianese cattolica sfiori sul passo, dall'angolo sotto misura Blundo viene chiamato all'intervento. E quando Docente Melonghi decidono di divertirsi arrivano facilmente in area di rigore, ma il numero 20 si divore clamoroso 1-2. Nella ripresa a calcio piazzato Melonghi chiama all'intervento Blundo. La pro Livorno replica con un tiro debole di Costanzo facilmente bloccato da Faccioli. Padroni di casa che sfiorano la marcatura, ma qui a granito non riesce la deviazione sottoporta. Mentre Melonghi serve sul piatto il pallone dell'1-2 che questa volta il nuovo entrato Goh trasforma in oro, andando a festeggiare con tutta la panchina e abbracciando in particolar modo il tecnico Simone Lilli. Da punizione Mussa prova a sorprendere l'estremo di casa, ma viene un tiro da dimenticare. All'82esimo la Marignanese Cattolica subisce il pareggio toscano. Costanzo per Granito che in area di rigore fa quello che vuole mettendo i titoli di coda al match 2-2 il finale.